Ben ritrovati, è il nostro appuntamento con dell'informazione che pone in primo piano la legalità nei cantieri alle prese con il piano nazionale di rilancio e resilienza. Oggi in prefettura è stata siglata un'intesa con l'Associazione dei Costruttori che mira a certificare prima il profilo antimafia delle imprese coinvolte nei progetti edili. Tutti i dettagli nel prossimo servizio. Maggiore trasparenza e velocità per certificare il profilo antimafia delle imprese operative nel settore delle costruzioni in un momento strategico come quello della partenza dei cantieri del piano nazionale di rilancio e resilienza. In un territorio come la provincia di Salerno che vanta ben 158 comuni con una significativa presenza di cantieri di grande rilevanza per numero ed estensione. È l'obiettivo al quale mira il protocollo d'intesa siglato questa mattina dal prefetto di Salerno Francesco Russo e dal vicepresidente del Lance Aies Salerno Fabio Napoli alla presenza del questore di Salerno Giancarlo Conticchio e dei comandanti provinciali dell'arma dei carabinieri Gianluca Trombette della Guardia di Finanza Oriol De Luca. Il documento nasce con la finalità di incrementare l'azione di prevenzione e contrasto ai fenomeni di infiltrazione delle organizzazioni criminali nel settore edile e fa seguito ad analogo accordo già stipulato a livello centrale tra il Ministero dell'Interno e l'Associazione Nazionale Costruttori Edili. Con le forze dell'ordine pronti ad offrire la loro massima collaborazione come è stato sancito al tavolo in prefettura questa mattina l'accordo consentirà alle imprese aderenti di consultare per il tramite del Lance la Banca Dati Nazionale Antimafia del Ministero dell'Interno allo scopo di verificare il profilo antimafia dei propri partner commerciali e contrattare esclusivamente con soggetti per i quali sia accertata l'insussistenza di motivi ostativi. Perché in pratica funzionerà con una possibilità che l'impresa che deve sottoscrivere un contratto possa richiedere direttamente a noi l'associazione logicamente un'impresa associata che ha debito a questo tipo di protocollo avere tutte quelle informazioni necessarie per poter capire con chi trattare e quindi fermare all'origine diciamo quella che è la possibilità e l'infiltrazione da parte di qualsiasi tipo di malintenzionato di quelle che sono diciamo problematiche che noi purtroppo viviamo nel nostro settore quindi dà la possibilità di avere una trasparenza una maggiore avere nell'interlocutore diciamo la capacità di capire con chi poter trattare quindi è di fondamentale importanza è una linea tracciata diciamo nella trasparenza ne avere massima diciamo possibilità di avere minore infiltrazione criminale e quindi questo per noi è il motivo diciamo di tranquillità è un servizio aggiuntivo che diamo ed è un'importante soddisfazione che facciamo direi provinciali e anche nazionali quindi è un importante diciamo punto di partenza per avere maggiore trasparenza e minore diciamo concorrenza con Ance noi già abbiamo fatto vari passaggi voi sapete appunto del protocollo dell'anno scorso per il contrasto al lavoro nero con la creazione della piattaforma che sicuramente rende la situazione molto più diciamo come dire controllabile ed accessibile a tutti e adesso c'è è un importante passaggio questo è un atto aggiuntivo è un atto diciamo più che altro esecutivo di un protocollo di intesa stipulato fra il ministro dell'interno e il presidente del Lancia a livello nazionale e che consente alle strutture del Lancia praticamente di entrare nella banca dati antimafia con delle limitazioni evidentemente previste per tutti coloro i quali non siano i professionisti le forze di polizia e la prefettura della banca dati diciamo della consultazione della banca dati in modo tale da diciamo come dire cogliere gli alert nel momento in cui le ditte associate che aderiscono al protocollo chiedano al Lancia di verificare se eventuali subappaltatori possono avere dei problemi per cui poi evidentemente non stipulare contratti con loro è una è la difesa anticipata a margine dell'incontro il prefetto di Salerno ha anche anticipato ai giornalisti la sua disponibilità ad apportare modifiche all'ordinanza sulla viabilità in costiera amalfitana come emergerà domani da un incontro convocato in prefettura domani noi faremo una verifica a tutto campo insieme all'ANAS praticamente per apportare eventualmente quelle modifiche quegli aggiustamenti che siano compatibili con una gestione ordinata del traffico in modo tale che possa essere ben recepita questo tipo di diciamo di 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 modifiche tenete conto questo insomma tutto quanto quello che viene fatto sulla costiera amalfitana è comunque parte dalla richiesta delle comunità locali dalla richiesta dei sindaci poi alla fine c'è il il prefetto l'ANAS e via discorrendo ma tutto quanto è frutto di un accoglimento delle richieste da parte dei sindaci si parte da questa considerazione il traffico sulla costiera amalfitana è un traffico indubbiamente molto complicato noi già nel 2019 apportammo alcune modifiche ma con l'accordo di tutti evidentemente la prefettura fa solo da coordinamento mette insieme quelle che sono le volontà dei sindaci praticamente e poi dopo abbiamo apportato le modifiche per quanto riguarda gli autobus e per quanto riguarda poi c'era stata anche questa diciamo questa ulteriore ordinanza dell'ANAS ordinanze anche da parte dei sindaci perché lavorano in parallelo i due tipi di ordinanze per le targhe alterne il 20 e il 21 sono stati anni particolari per cui queste ordinanze sono state sospese adesso le ordinanze sono partite bisogna adesso diciamo in corso d'opera individuare quelle che sono gli opportuni correttivi per cui faremo questo tipo di passaggio ma noi domani poi ed intanto in prefettura durante le riunioni del comitato straordinario per l'ordine e la sicurezza nei giorni scorsi era stata studiata una strategia per frenare una serie di episodi che avevano destato preoccupazione oggi abbiamo fatto il punto proprio con il questore di Salerno a bilancio anche dell'ultima iniziativa che ha riguardato i centri della Piana del Sele dopo l'intervento che ha riguardato l'agronocerino sarnese arriva nella Piana del Sele un servizio di controllo interforza effettuato sulla fascia costiera tra i comuni di Battipaglia Eboli e Ponte Cagnano in conformità a quanto deciso in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica il bilancio finale parla di 341 persone controllate 215 veicoli fermati 6 posti di controllo effettuati ma anche 7 perquisizioni 67 grammi di asci sequestrati 11 di marijuana un provvedimento contro una cittadina rumena dedita alla prostituzione ed un altro contro il commercio abusivo oltre che 9 cittadini extracomunitari controllati di cui 8 irregolari destinatari di provvedimento di espulsione ancora 3 proposte di divieto di ritorno a carico di altrettanti pregiudicati e altri esercizi commerciali controllati la sicurezza deve necessariamente essere attivata attraverso appositi servizi di prevenzione ha ribadito questa mattina il questore Conticchio proprio facendo il punto dei controlli effettuati sicurezza la sicurezza va anche alimentata con servizi preventivi la parte investigativa relativamente ai fatti accaduti stanno seguendo il loro percorso signor Presidente c'è anche un'attenzione particolare per il Comune Capoluogo lei faceva riferimento all'intensificazione dei controlli nella Piana del Sele nei giorni precedenti c'è stata un'azione anche che ha riguardato l'agronocelino sarnese per quanto riguarda il Comune Capoluogo anche qui ci sarà un'intensificazione dei controlli di prevenzione se avete notato le vie cittadine e le piazze centrali sono costantemente presidiate e i controlli sono in atto sto avendo dei feedback positivi da parte dei cittadini di Salerno e non solo dell'attività di prevenzione a tutela della sicurezza Sarà invece un po' più complicato fare giustizia nell'agronocerino sarnese dove un'assemblea ha sancito altri otto giorni di sciopero del Tribunale di Noceira tutti i dettagli nel prossimo servizio una nuova stenzione dalle udienze dal 6 al 14 luglio l'ha deliberata il consiglio dell'ordine degli avvocati di Noceira Inferiore all'esito di una follata assemblea straordinaria svoltasi nell'aula bunker del Palazzo di Giustizia l'avvocatura nocerina ha deciso di continuare con lo sciopero dalle udienze per tenere alta l'attenzione sulla drammatica situazione che vive la giustizia nel Tribunale di Noceira Inferiore ad introdurre la discussione il presidente del consiglio dell'ordine Guido Casalino che ha ripercorso tutte le tappe del COA lungo la filiera istituzionale per portare anche all'attenzione del Ministero della Giustizia la drammatica situazione del Tribunale in Ucirino a seguire gli interventi del neoeletto sindaco della città del presidente della Camera Penale Nobile Viviano e di numerosi altri avvocati civilisti e penalisti del foro presente anche Giovanni D'Alessandro già candidato sindaco e oggi consigliere comunale la decisione di procedere con una nuova astensione dalle udienze è stata unanime Sarà una festa invece a celebrare a pochi mesi dall'apertura il successo già ottenuto a battipaglia dal nuovo McDonald alla presenza oggi anche dell'assessore all'edilizia è stato valorizzato l'insediamento imprenditoriale che ha restituito alla città una zona che era stata abbandonata l'occasione è stata utile per il manager di McDonald Salerno e Potenza Luigi Snichelotto anche però di parlare di altre iniziative tra le quali quelle volte a tutelare l'ambiente dopo aver sfidato il clima di austerity e di vieti legati all'emergenza pandemica il nuovo ristorante McDonald di Battipaglia aperto lo scorso dicembre con un taglio del nastro molto sobrio e minimal per motivi di sicurezza a causa della curva pandemica si prepara ora a festeggiare il successo già ottenuto e lo farà il prossimo 24 giugno a Battipaglia alla presenza di una testimonial di eccezione Valeria Marini la festa è stata presentata questa mattina in un'iniziativa congiunta con l'amministrazione comunale di Battipaglia presso il ristorante McDonald di Mercatello dove Luigi Snichelotto partner McDonald per le province di Salerno e Potenza ha anche annunciato le prossime iniziative a sfondo sociale promosse da McDonald L'amministrazione fin da subito è stata al fianco di un brand a livello mondiale come McDonald abbiamo dato tutto il supporto possibile niente che dire McDonald di canto suo ha risposto con le assunzioni appunto e ha lasciato ha urbanizzato un'area che era diciamo un po' dismessa e abbandonata siamo molto contenti di questo insediamento è stato ben accolto sta rispondendo abbiamo circa una cinquantina di risorse inserite che abbiamo praticamente assunto nei mesi precedenti all'apertura e tutto questo scenario è positivo e quindi in questo senso ci fa pensare a una prospettiva sperando di uscire ovviamente da queste cinque delle sette piaghe per così dire a proposito di prospettiva in cantiere tante iniziative anche a sfondo sociale assolutamente sì noi abbiamo già concluso la seconda edizione quest'anno da gennaio a marzo sempre aperti a donare quest'anno abbiamo rilasciato circa 4.400 pasti in quel periodo compatibilmente con il covid abbiamo dovuto anche bypassare e fare un po' di slalom perché alcune settimane non abbiamo potuto operare quindi abbiamo recuperato le solite quattro associazioni che noi sosteniamo l'abbraccio su madre Teresa di Calcutta a Potenza anche a Battipaglia abbiamo inserito quest'anno Don Ezio con la mensa dei poveri insomma l'altra associazione anche che seguiamo a Salerno e faremo poi un'iniziativa diciamo ambientalista fra settembre e ottobre l'anno scorso ne abbiamo già fatte cinque nei vari comuni due a Salerno poi dove siamo presenti quest'anno amplieremo con Battipaglia questa iniziativa dove il personale in forma volontaristica è strutturato organizzato con i vari presidi necessari per si reca a pulire e a recuperare delle zone del territorio che siano state in base dai rifiuti oggi studenti alle presi anche in provincia di Salerno con la prima prova dell'esame di maturità lo scritto di italiano vediamo com'è andata al liceo genuino di Cava dei Tirreni al via oggi gli esami di maturità 2022 oltre 500.000 studentesse e studenti hanno affrontato la prova di italiano puntuale come un orologio svizzero alle ore 8 e 30 di stamane il ministero dell'istruzione ha pubblicato sul sito la chiave elettronica con la quale le scuole hanno potuto accedere alle tracce della prima prova scritta gli studenti hanno potuto scegliere tra sette tracce di tre diverse tipologie analisi ed interpretazione del testo letterario analisi e produzione di un testo argomentativo e riflessione critica di carattere espositivo argomentativo su tematiche di attualità per i ragazzi a disposizione 6 ore è stato Giovanni Pascoli l'autore scelto dal ministero dell'istruzione per la prima prova di maturità per la tipologia A il testo scelto è stato La vita ferrata tratto da Mirice la seconda proposta invece è stata la novella Nedda di Giovanni Verga per la tipologia B un testo tratto dal libro scritto da Gerardo Colombo e Liliana Segre La sola colpa di essere nati la seconda proposta della tipologia B è stato un testo tratto da Oliver Sacks musicofilia la terza proposta della tipologia B è stata invece il discorso pronunciato dal premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi l'8 ottobre del 2021 alla Camera dei Deputati al centro del suo discorso il tema del covid dei cambiamenti climatici e dell'importanza della scienza ed infine per la categoria C la prima proposta è stata un testo tratto da perché una costituzione della terra di Luigi Ferraioli sulla pandemia e sui suoi effetti sull'economia e sulla società la seconda proposta è stato un testo di Vera Geno e Bruno Mastroianni tratto da tienilo acceso posta commenta e condividi senza spegnere il cervello per l'occasione abbiamo ascoltato il dirigente scolastico del Profagri di Salerno Alessandro Turchi che in questi giorni è presidente della commissione presso il liceo scientifico Andrea Genoino di Cava dei Tirreni essere presidente di commissione ovviamente lo faccio da un po' di anni è una cosa assolutamente normale si sente comunque il peso della responsabilità perché di fatto è l'unico membro esterno della commissione una volta c'erano anche dei commissari che venivano da fuori adesso c'è solo il presidente quindi si sente il ruolo la responsabilità di essere diciamo di attenzionare in modo particolare lo svolgimento delle prove proprio in quanto unico membro esterno quindi non essendo coinvolto diciamo nelle dinamiche interne della scuola in questo caso ci troviamo a Cava dei Tirreni al liceo Genoino dove tutto si sta svolgendo nella massima tranquillità i ragazzi ormai dopo anni di pandemia erano pronti a ritornare diciamo a pieno titolo in una prova di esame completa con le due prove scritte oggi si sta tenendo la prima la prova di italiano sei ore si concluderà intorno alle 15 c'era una gran voglia di tornare in presenza a pieno titolo in effetti siamo tornati all'esame così come si svolgeva due o tre anni fa prima della pandemia quindi c'è un sistema di crediti fino a 50 punti poi ci sono due prove scritte una di italiano che va bene a livello nazionale è stata strutturata a livello nazionale e porta 15 punti poi c'è una prova la seconda prova che varia da scuola a scuola viene organizzata all'interno della stessa scuola 10 punti e poi ci sono 25 punti quindi un discreto punteggio per la prova orale cui viene appunto data una certa importanza quest'anno i ragazzi hanno modo di esprimersi in questa prova orale così come non hanno fatto non sono riusciti a fare in questi due anni torniamo ora a Salerno dove si è svolta ieri una passeggiata di solidarietà che ha visto insieme Fit Walking l'associazione presiduta da Mauro Russo con l'AIL tutti i dettagli nel prossimo servizio sono stati circa 200 i salernitani che hanno risposto all'appello dell'AIL aderendo all'iniziativa promossa da Fit Walking Solidale organizzata proprio dall'AIL in collaborazione con l'associazione presiduta da Mauro Russo che si è svolta ieri in occasione della giornata nazionale per la lotta contro le leucemie linfomi e mieloma una passeggiata partita da Piazza Dante dove volontari AIL hanno distribuito le sacche con i gadget e le magliette e si è svolta poi su tutto il lungomare con tappe nei punti bellissimi della città di Salerno dalla spiaggia di Santa Teresa alla stazione marittima a Piazza della Libertà conclusione con un aperitivo tutti insieme in tantissimi erano anche i pazienti che grazie alla ricerca hanno potuto affrontare la malattia e ieri erano a camminare finalmente fuori dall'ospedale con medici infermieri psicologi volontari e tante tante persone che hanno voluto esprimere la propria solidarietà è stata dunque un'emozione immensa incrociare sguardi vedere finalmente i sorrisi senza la mascherina camminare con entusiasmo e tutti insieme dare un contributo all'AIL nella lotta contro le leucemie l'infoma e il mieloma bene tornati in studio apriamo la pagina dedicata agli appuntamenti è stata presentata questa mattina nel salone del gonfalone del comune di Salerno la dodicesima edizione di teatrando al quadriportico la rassegna di teatro amatoriale che si tiene nel quadriportico di Santa Maria delle Grazie l'iniziativa è organizzata dall'associazione Planum Montis e dalla compagnia Escepe Ciantrella con il sostegno del comune di Salerno alla presenza del delegato alla cultura del comune di Salerno Ermanno Guerra il direttore artistico Giuseppe Giardullo ha illustrato il fitto cartellone di appuntamento i 16 in tutti gli spettacoli tutti a ingresso gratuito e fino ad esaurimento dei posti tutti gli spettacoli avranno inizio alle 21 si potrà accedere all'interno del quadriportico di Santa Maria delle Grazie a partire dalle 20 e 15 il taglio del nastro domenica 3 luglio con gli allievi di On Teatro Formazione Cultura di Salerno che proporranno lo spettacolo inedito di Marco Ziello che firma la regia insieme a Licia Amarante parliamo ora di prevenzione perché domani è la giornata dell'incontinenza e sono previste visite gratuite anche presso l'azienda ospedaliera universitaria Ruggi d'Aragona come ci ha spiegato il primario di urologia il dottore Savoia nell'occasione di questa giornata saranno a disposizione del pubblico sia gli ambulatori di uroginecologia sia quelli di urologia per le visite di prevenzione per una patologia molto diffusa in Italia che riguarda quasi 5 milioni di pazienti sia maschi che femmine e quindi ci sarà un'iniziativa di questo tipo che nell'ambito della prevenzione è molto importante riguarda sia gli uomini che le donne dottore? Sì esattamente negli uomini soprattutto per quanto riguarda le patologie prostatiche dopo l'intervento di prostatectomia oppure in casi di interventi di adenoma prostatico nel caso delle donne immediatamente dopo il parto durante la gravidanza nel puerperio e soprattutto nella menopausa è una iniziativa tra l'altro che viene organizzata in collaborazione con la Fincop Sì esattamente la Fincop è la federazione italiana per l'incontinenza e per le disfunzioni del pavimento pelvico che si occupa appunto della prevenzione soprattutto di queste patologie e dell'assistenza ai pazienti incontinenti anche nel approvvigionarsi di presidi che sono importanti per il trattamento dell'incontinenza Adesso la nostra rubrica dedicata proprio a segnalarvi altri appuntamenti Cineforum al Cinemateatro San Demetrio di Via Dalmazzi a Salerno dove quest'oggi è in programma il secondo film Downtown Abbey Una nuova era tra gli spettacoli alle ore 17 alle 19.30 e alle 22 ingresso intero 7 euro ridotto 5 euro il giovedì non festivo 5 euro per informazioni 089 Andiamo ti divertirai te lo prometto E la Salernitana è attiva sul mercato ne parliamo tra poco nella parte del nostro TG dedicata come sempre all'informazione sportiva vi aspettiamo tra pochissimi minuti in collaborazione con Eureka la tua estate previsioni per domani al mattino sulle coste bel tempo con cieli sereni o velati in montagna bel tempo con cieli sereni o velati nel pomeriggio sulle coste bel tempo con cieli sereni o velati in montagna bel tempo con cieli sereni o velati è il momento come vi anticipavo di occuparci di informazione sportiva come sempre in primo piano c'è la Salernitana una società fortemente impegnata sul mercato tra cessioni, rinnovi, complicati e anche conferme il club Granata valuta le offerte per Ederson e sonda diverse piste per l'attacco in questa fase la priorità è l'ingaggio di giovani di valore dai big agli under passando per rinnovi e tentazioni la Salernitana non ha ancora ufficializzato alcuna operazione ma l'agenda di mercato del DS De Santis è quanto mai fitta in attesa della presentazione ufficiale che dovrebbe avvenire prima della partenza della squadra per il ritiro in Austria De Santis ha virtualmente definito l'intesa con gli agenti di Lassana a Koulibaly per il rinnovo del contratto fino al 2026 ingaggio ritoccato per il Maliano che rinuncia alla clausola da 1,5 milioni di euro con cui si sarebbe potuto liberare entro il prossimo 20 luglio con o senza commissioni la verità potrebbe stare nel mezzo intesa raggiunta da tempo anche per Bolinen che ha comunicato al club Granata la sua intenzione di non avvalersi della facoltà di bloccare il riscatto del suo cartellino dal CSK Mosca per il norvegese divenuto punto fermo del centrocampo nelle ultime gare stagionali le offerte e le manifestazioni di interesse non mancano sarà però Lassana a valutarle di certo per il futuro si prospetta una ricca plusvalenza per il club Granata che potrebbe subito realizzarne una di notevole entità Su Ederson infatti non molla la presa all'Atalanta ma anche l'Inter sarebbe tornata alla carica Lassana ascolterà proposte che partano dai 20 milioni in su Boinen e Ederson sono ragazzi del 99 e la Sertana è a caccia di altri giovani di valore che possono dare corpo alla rosa per la prossima stagione aumentando le soluzioni per Nicola il club Granata è impegnato in un testa a testa col Bologna per l'Ovato e dall'Atalanta ha chiesto anche un altro difensore Ocoli nazionale nel 21 e fresco di promozione in A con la Cremonese con la Roma si va avanti per il terzino sinistro Calafiori piace anche Ake esterno ad attacco francese di proprietà della Juventus piace moltissimo il talentoso centrocampista offensivo del Napoli Gianluca Gaetano, protagonista in Bicola Cremonese in attacco l'idea più concreta porta a Matteo Cancellieri di proprietà del Verona e con un passato alla Roma il sogno del presidente di Ervolino resta a Cavani ma intanto si valutano l'albanese Manai tornato al Barcellona dopo il presso dallo Spezia e si accarezza un'altra suggestione importante che porta a Milik, ex attaccante del Napoli il polacco e rinforza al Marsiglia cui è legato da un altro anno di contratto il cartellino costa 15 milioni più o meno la stessa cifra che potrebbe servire per strappare all'Inter Pinamonti ancora in stand by il rinnovo di Diuric Un mese fa in una serata incredibile e dalle forti emozioni la Salernitana conquistava la salvezza la gara con l'Udinese fu sospesa per 7 minuti a causa del lancio di fumogeni e per questo c'era stata la mano pesante del giudice sportivo che aveva decretato la chiusura del settore distinti per una gara il provvedimento è stato confermato ieri dalla corte sportiva d'appello ed ora la Salernitana pensa di rivolgersi al collegio di garanzia del CONI Un mese fa la salvezza ottenuta sul campo dopo 90 e più minuti a dir poco folli e contraddittori sconfitta in casa per 4-0 dall'Udinese la Salernitana poteva festeggiare comunque la prima storica permanenza in massima serie grazie al pareggio del Cagliari a Venezia Durante la partita della Rechi però non mancarono i momenti di tensione le intemperanze dei tifosi con lanci di oggetti in campo ed in particolare di fumogeni per questo l'arbitro orsato fu costretto a sospendere la gara per alcuni minuti qualche giorno dopo il giudice sportivo combinò una multa di 40.000 euro al club Granata pronunciandosi anche per la chiusura per un turno del settore distinti e per la diffida della Rechi Ieri il pool legale della Salernitana ha provato a ribaltare la decisione ma la Corte Sportiva d'Appello ha concesso solo un piccolo sconto in merito all'entità della sanzione pecuniaria scesa a 38.000 euro confermata la chiusura del settore distinti per un turno ora la Salernitana punta al ricorso al collegio di garanzia del CONI per poter quantomeno ottenere e discontare la squalifica del settore distinti in occasione della prima gara stagionale che potrebbe essere anche quella di Coppa Italia c'è un precedente in tal senso che riguarda il Verona e la Salernitana farà leva proprio su questo anche perché la chiusura dei distinti per la prima giornata di campionato complicerebbe le cose dal punto di vista logistico per gli abbonamenti la società Granata stava attendendo l'esito del ricorso proprio per poter avere le idee più chiare in merito alla campagna abbonamenti che sarà presentata all'inizio della prossima settimana e che non sarà legata al possesso della Granata Card oggi 22 giugno però è una data da ricordare per due motivi nel 94 la Salernitana delle Rossi sconfisse 3-0 la Juve Stabia al San Paolo e volò in Serie B nel 47 invece la squadra di Gipoviani conquistò la prima promozione della sua storia in Serie A 2-0 al Palermo all'allora comunale poi vestuti firmato da Margiotta e festa per una città intera che un mese fa ha gioito per una insperata ed incredibile salvezza una notizia che riguarda la palla a mano c'è una grande presenza della IOMI Salerno in seno alla nazionale Under 20 che prenderà parte i campionati mondiali in programma in Slovenia il capitano della formazione salernitana nonché consigliere federale Pina Napoletano sarà il capo delegazione mentre nello staff tecnico ci sarà Adele De Santis in qualità di allenatore dei portieri azzurri ma del gruppo faranno parte anche le atlete già da Chianise Giulia Russo Mando e Ramona Manajovic del roster agli ordini del tecnico Giuseppe Tedesco farà parte anche la salernitana prodotto della cantera IOMI Salerno Giulia Fabbo attualmente in forza al Met in Francia ed ora chiudiamo con una notizia che viene dal volley prende forma la nuova P2P e blocchi di partenza del campionato di Serie B1 il primo rinforzo per Coach Castiglio è Lara Salvestrini Toscana di San Mignato classe 99 schiacciatrice era l'ultima notizia di questo nostro appuntamento con l'informazione che vi ringraziamo di aver seguito per chi lo avesse fatto sui social ricordiamo che da oggi TV Oggi è visibile sul canale 88 del Digitale Terrestre vi aspettiamo dunque a presto vuoi rivedere questo programma? visita il nostro sito tvogisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand grazie grazie